Ok, ho fatto parte di registrazione 3 2 1 Questo video non è intenzionale per sponsorizzare la Blizzard E in nessun altro modo Non perchè hanno fatto una bella canzone per Dragon Ball Super Ma perchè mi piace come casa produttrice Perchè il gioco è bello No no, non è per niente Per sponsorizzare la Blizzard Non mi hanno pagato E Ricky lo sa bene Minchiove perchè cazzo stai parlando Di sponsorizzazioni della Blizzard Perchè la Blizzard mi paga per fare questi video Su Overwatch No, non lo fa Sei sicuro? Sì, abbastanza Cazzo stavo registrando in cui parlavamo Oh no I miei contratti Se dico che mi pagano Non mi pagano Ma non ti pagano comunque Ma sto zitto Io ti pago per non pagarle Ma non è vero E tu non mi paghi Ma facciamo che ci paghiamo a vicenda Ti do un euro Tu mi dai due euro Ok No, no Allora non ci sto Io direi che non c'è bisogno di presentare Overwatch Perchè dai E' del 2016 2015 Quanto cazzo è E qua siamo solo nella ricerca della stanza Quindi sti cazzi E non penso ci sia bisogno di presentarlo Di che anno è 2016 2016 Ok 2016 Avevamo pure controllato Quando ci avevamo il diverbio Su Red Dead Redemption E Overwatch Eh già Chissà Quale è che è uscito prima Vero Rikido Siamo andati a controllare E abbiamo controllato Mi ricordavo che Red Dead Redemption 1 fosse dal 2010 Però Vabbè che era Ero sicuro che Red Dead 1 era uscito dopo Dopo Prima Overwatch Cazzo dico Dopo Eh dici Eh dopo perchè Sennò poi Non sei abbastanza pirlo E non fai le views Eh lo so Sono abbastanza pirlo Eh oh ma si muovono qua Intanto ci abbiamo Lucio E so che si dice Lucio Perchè è brasiliano Però Però Lucio Volete mettere Lucio Lucio Dai eh Che è stato pure denunciato Eh uè la uè la pizza con Lu Pomodoro in guop Perchè si drogava Cioè aveva ricevuto un sacco di denunce quello Tipo non facevano più la mia emisione Solo Perchè Per colpa sua mi sembra Su di lui sono girate tante sue storie E comunque è più o meno lo stesso discorso che facciamo per Genji Soltanto che tu lo chiami Genji Sì ma Genji è ignorantissima come roba Sì ma a sto punto chiamalo Genji va fai prima I pro gamer di Overwatch non apprezzeranno questo contenuto Seleziona Ma intanto vediamo cosa scelgono gli altri Ancule Eh vabbè Nelle partite userò Zenjata Noi sono praticamente obbligati Noi siamo sempre obbligati a prendere D.Va Zenjata Perché non mettono mai un healer Non mettono mai un tank Vabbè che è Che Bastion è abbastanza tank Però Non è un vero e proprio tank Quindi Allora in queste due Fare ho solo due partite Solo per vedere se il gioco può interessare In caso interessa faccio altri video Magari ha pure delle live però Principalmente No 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 aspetta Dani Dobbiamo fare due partite in cui vinciamo Quindi saranno tipo 163 partite Perché Noi facciamo un skiff Ricordatelo Vabbè ma Facciamo così In questa partita Ma uso Zenjata Perché Ci sono ritornati senza healer Nella prossima Me ne frego il cazzo Uso leaper Allora Zenjata è un healer Perché posso targettare Gli alleati E usare R1 Per dargli questa sferetta Che gli cura Però una alla volta Infatti Vedete Invece con L1 Targetto gli avversari Vedete E lo vedo attraverso il muro Tipo Con Col segnetto E poi Zenjata C'è quella barretta blu Che si ricarica da solo Nonostante non c'è molta vita E spara cazzo di cane Perché c'ho moglie No cazzo Perché non riusci a spostarli Porca troia Ah Massion Ucciso Per miracolo Ti ha bisogno di cure Dove sei Dove sei Amico 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 Trovato Amico amico Grazie comunque Sta pistola qua E OP Razer Vi è qua Razer Fermo Qua c'è Genji Abbatti un War Bastion Aia Aia Ok Eh Fatti curare Ah ma il tato ti sei curato Eh si Mi ha sbloccato in meca Se vi chiedete perché spara cazzo di cane Ciò voglio Va bene Tanto le munizioni sono infinite Però proprio Quando si dice hai rotto le palle Ma se capisci male Tiri quelle di geniata Ciao Ciao Genji Ragazzo dove mi finito di turbo qua Va sopra sul tetto È sceso Ciao Vado che genio Genji Cazzo Che figura di merda Ucciso Ho fatto un liscio Cramoroso Ui Aia Non sono C'è Sash E Boston Che mi stanno Ammazzando male Non sono per un cazzo bravo A mirare col controller Infatti su GTA Tipo te non mi hai Mai visto Ma se devo Fare Uno di uno Senza la mira assistita La prendo in culo Se ne unito il cecchino Che paura Pure in questo momento Perché non c'ho l'armatura E so che qualsiasi colpo Mi può one shottare Ah ma è sparito Qua c'era un ciccione Eh si E c'era viva È morto Genji E il Genji avversario C'era la suprema Oh c'ho Ah cazzo Sono caduto Eh Facciamo che questa la tagliamo E ora Sì sì Adesso c'ho l'ultra Di BANANA Ma Sono caduti i mattoni C'è fara di merda Che vola Rikki cosa vai così Cazzo duro Non serve niente È così Aiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia Oddio Bastio Ah Genji C'è un bacio Basio Ah Widowmaker Al fuori! Al fuori! Non è dubbio, vado contro i muri Noi Bob! No Bob! 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 No Bob in mucca! No! Serie di 15, ci siamo nel frattempo a cazzo le granate di roba di George Michael qua Perché l'ho chiamato George Michael? Vabbè Come vedete noi siamo pro quanto un calcio nei coglioni Tirato ad una donna Vabbè qua immagino con la speciale Eh sì La speciale di Anzo è praticamente è kill garantita Si fai pentakill con un colpo Eh questa è la prova Uh ciao ci sono io Lo so metto a bastion a caso E poi elogio gli altri a cazzo di cane tanto per prendermi più exp Faccio lo stesso Vai ne facciamo un'altra Però stavolta vi salto dalla parte in cui stiamo nella nella parte di ricerca Almeno che non esce qualche cosa bella ignorante Trasferimento a Eichenbal Banana E' stato giroso Rita Non lo trovavo più ma Aspetta Tracer a minchia perché si Perché ehm I'm already Tracer Nessun tank e nessun guaritore Occhio che siamo nella sala di Siamo nella sala di pre partita Mi sa di no No perché ci fa scegliere i costumi Cazzo Cazzo cane cocco barone e ridire il pane Eh siamo già in partita Eh che merda Siamo già in partita Cazzo Ehm Nessuno ha preso il niler Nessuno ha preso niente Io ho preso D.Va perché Ehm Se no Facciamo letteralmente schifo Almeno abbiamo un po' di difesa in più Altro che Red Dead Red Dead Questa Fraction Li ho colpiti Ho colpito una mano Au Perfetto Ho già 20 HP Buonasera userò l'abilità speciale di Reaper che mi rende invulnerabile Un ceccione Un ceccione Un ceccione La community di Fashion Soul si ha postato qualcosa Mio Soldato di merda Cazzo Non l'ho ricaricato Alzheimer Mi dimentico sempre Cosa? Da dove? Ah Zeniatta In vestito Zeniatta Questa è la mia maledizione Arriva la morte Non è che per via di Riperdo le sue frasi Quando mi segnalano il video per istigazioni al suicidio Perché? Mi ha one shottato E io ti ho vendicato Proprio è uscito schiacciato Ci sono rimasto male Ah breaking ball Ho pensato Va bene continua a sparare Non penso che mi uccida E invece Cambio posizione Sono una mezza sega Sono una mezza sega Cazzo merci Crepa 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 C'è soldato sul tetto Perchè non muori E' suicidato A me sta bene così eh Ai Mi l'ho superato C'è un soldato di merda sul tetto Io lo lascio lì Perché tanto devo difendere E non me ne frega più di tanto Perchè mi hai fatto stamare in culo al mondo Cazzo 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 Vieni qua difendere Arrivo Cazzo E vabbè Mi sarebbe ritrovato asci davanti Asci ha preso un po' Esplodete bastardi crocchi Uiiiiiii E aia Se vinciamo senza healer ha preso Eh no Aia Cazzo mi sta Mi sa che c'era la Abbiamo seriamente salvato il culo al punto Aaaaa C'è Ottimo va che roba Eh c'hanno tank C'hanno healer C'hanno tutto Non ci abbiamo soltanto me come tank Sai cosa c'hanno? Sai cosa non hanno? In verità Il cuore delle carte Esatto Uiiiiii Aaaaa Non andrei più cazzo duro Nota personale Perfetto Non ci sono scudo Ti senti scarso quando ti uccide Mercy Ma proprio scarso Perché lo sei Non credi a... non hai creduto abbastanza nel cuore delle carte Eh sì chiedo scudo Why C'ho bene No, 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 no C'è un maggio che vola c'è un tildo cura 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 mi sto capendo soldato di merda dove scappi soldato di merda e mo c'è uno spray perché sono forte che cos'è che vola il doppiaggio bellissima pioggia di poi ha morto non può fermare gli eroi crepa subito dopo cura sprega di cura cazzo userà cazzo di cane la supremo cercherò di usarla più ma il peggio possibile sul nemico abbiamo ancora così dieci se fanno da una cosa sono sentito di una milina pacoro Olè, sciucate, mamma mia, sono fortissimo Oh, cazzo Ma ero lì io Che cazzo di problemi c'ha a sto gioco Cura, 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 cura No No, ma, aia Serie di sette uccisioni, però, eh, non male Ah, io pure prima Anzi, forse 10 Basta colpirmi con quella mazza di merda, Brigitte Brigitte E anche se si dice Brigitte, noi continueremo a dire Brigitte Perché dire Brigitte No, se non voglio proprio Brigitte Lo dicono nei trailer Nei trailer, nei corti animati Che si chiama Brigitte E forse pure nel gioco, ora non mi ricordo C'ho quattro di vita Mi ha ucciso quella con la mazza Da dietro Che palle Ciao Dani Ciao Dani C'è saldato Mersi di merda C'è saldato Bullato No, no, no Stanno in tre Stanno in tre Stanno in tre Io non c'ho Ah, ci sono in quattro Ahia Eh, mi sa che prendono pure l'altro checkpoint Non so perché ho sentito l'istinto compulsivo di usare la Suprema E tengo due HP Dai, che ce la facciamo Non mollate ora Dai, non c'è che l'uso del trasporto Mio 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 No, che c'è accaduto Volevo buttarmi sulle passerelle di reddi e fare parkour No, soldato 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 C'è Bob Hai Abbiamo vinto Suicidio Oh no Vabbè direi che per questo primo episodio di Vabbè episodio Video di Overwatch Ci sto Vediamo l'azione migliore E poi chiudo Ditemi se volete Se così aprivi questo Overwatch E domani Anzi non so Se esce Allora se esce domani questo video Sappiate che Aspetta Aspetta Rikyogi che giorno è È il 2 giusto? No il 3 È il 3 È il 3 È ormai il 3 però Sì 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 Vabbè è il 3 È il 3 perché Stiamo registrando a mezzanotte Però va bene E tagli E tagli Sto zitto Se esce il 3 Il segreto del mestiere Se esce il 3 Verso il pomeriggio Esce l'episodio di Dark Souls Il secondo Quindi Ci diamo appuntamento là E sappiate che Alla fine Mi dovete dare 5 euro Perché devo shoppare Su Red Dead Online 2 Alla fine Alla fine Sì 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 Grazie.